Dopo 50 anni nelle catacombe di San Gennaro a Napoli torna il reliquario con i resti del santo patrono e di Santa Grippino. Un ritorno che ha un valore simbolico per un quartiere e la sanità da tempo impegnato in un processo di recupero di identità e di rilancio turistico. Enzo Perone. Il ritorno a casa di due reliquie importanti, le più importanti della città, Santa Grippino e San Gennaro, sicuramente determinano un momento emozionante nella vita degli abitanti del rione Sanita e qua le protezioni non bastano mai. C'è più lavoro e c'è più collaborazione anche da parte degli abitanti stessi del quartiere perché vedere tantissimi visitatori che vengono da tutte le parti del mondo è molto bello per noi abitanti. Emozione, devozione, partecipazione. Dopo 50 anni dall'apertura delle catacombe di San Gennaro e a 10 dalla rinascita ad opera di una cooperativa dei ragazzi del quartiere guidati da padre Antonio Loffredo, il vescovo ausiliare di Napoli, Lucio Lemmo, ha deposto sotto l'altare della basilichetta di Santa Grippino all'interno delle catacombe le reliquie dei santi vescovi Gennaro, patrono di Napoli e Agrippino, magistrato cittadino a difesa dei poveri, definito defensor civitatis. E' un gesto che fece 50 anni fa il nostro cardinale Ursi e con quel gesto è iniziata quella che chiamano la rivoluzione del rione Sanità perché da quel momento in effetti San Gennaro si è messa all'opera. Le spoglie fino ad ora erano conservate presso la cappella delle reliquie nella cattedrale di Napoli e sono ritornate al loro originario sepolcreto, consegnate ai parroci del rione Sanità Don Antonio Loffredo e Don Giuseppe Rinaldi. La stessa emozione di quando un figlio torna a casa e incontra i suoi familiari, i suoi genitori, i suoi nonni, i suoi parenti, cioè tocca le radici e le radici fanno venire fuori qualcosa di meraviglioso.